Anselmo Agoni, siete riusciti in questo luogo a dare il giusto valore a parte del passato di questa valle e a questa attività? Sì, questo luogo e queste infrastrutture sono quello che siamo riusciti a salvare da 2000 anni di storia che erano andate un po' disperse con la chiusura delle miniere. Qui ci troviamo nel centro dell'attività estrativa di Schilpari, cioè in località Gaffione dove sorgevano gli impianti di trattamento, di lavorazione e della prima cottura del minerale che con la chiusura avvenuta nel 72 delle miniere erano stati tutti smantellati. Noi circa 19 anni fa, un gruppo di appassionati, siamo riusciti a salvare quello che c'era, le infrastrutture, le poche rimaste, poi il comune ha fatto il resto acquistando l'area e anno dopo anno abbiamo migliorato un po' quello che era l'offerta, l'offerta culturale e anche d'immagine migliorando un po' il contesto perché non c'era più niente, qui avevano raso al suolo tutto, era stato asportato tutto il materiale ferroviario, le rotaie, i carrelli eccetera. Quindi siamo stati impegnati per diversi anni a rimettere rotaie, a far ripartire i trenini, abbiamo rimesso in sicurezza le gallerie ed oggi offriamo una visita che si sviluppa su due livelli perché le gallerie sono disposte per livelli, cioè ogni 30 metri di quota abbiamo un piano di galleria, ne abbiamo resi visitabili due, la miniera Gaffione che era la galleria principale di Schilpario e si entra un chilometro col trenino, poi il treno si abbandona in sotterraneo, si continua scendendo una scalinata che costeggia un fiume sotterraneo, si arriva nella parte più bella della miniera che è una miniera dell'Ottocento chiamata Spiazzo. Da lì dopo circa un'oretta di cammino con la guida si sbuca a giorno e si ritorna lungo appunto i sentierini che si snodavano in questi impianti di trattamento del minerale, ritornando al punto di partenza. Ecco, è un'offerta appunto didattica, culturale, storica che dura circa un'ora e mezza, accompagnati da guide preparate e tutto in sicurezza con un'illuminazione che permette di vedere i luoghi anche più profondi, più distanti dal visitatore. Infatti abbiamo, chiamiamole, non sono caverne, sono dei luoghi chiamati coltivazioni dove il minatore lavorava che sono grandissimi, sono alti decine di metri e si vede proprio questo lavoro cosa ha significato. Quindi qui arrivano tanti visitatori? E abbiamo migliaia di visitatori a partire dal mese di marzo fino a fine ottobre. Apriamo poi tutto l'anno su pronotazione per gruppi di almeno 20 persone. Ecco, adesso luglio-agosto l'offerta vuole essere anche un'alternativa ai giorni di pioggia perché qui si arriva in auto fuori dalla miniera e in miniera non piove mai, quindi è come una scatola del tempo e si sta sempre nello stesso clima, nella stessa ambientazione. Abbiamo poi voluto creare da 13 anni a questa parte un'iniziativa che si chiama Antiche Luci che è una manifestazione unica nel suo genere in Italia, è una mostra a scambio di materiale minerario, di antiquariato minerario a partire dalle lampade del minatore che sono questi oggetti di uso comune quando le miniere funzionavano che erano le compagne di vita di questi lavoratori che tutto il giorno al buio erano costretti a illuminare il loro lavoro con mezzi a volte anche rudimentali come le torce, le fiaccole. E qui ci troviamo in un punto che abbiamo ricreato abbastanza caratteristico per ricordare la figura in una persona a tutti quelli che erano queste migliaia di lavoratori che sono i minatori. Abbiamo dedicato questo spazio a una guida che è stato per anni il nostro collaboratore che si chiamava Mai Giuseppe, detto Pino, che ha fatto il minatore alcuni anni e poi quando abbiamo riaperto ci ha aiutato trasmettendoci tutto quello che conosceva, quello che si ricordava e quindi con la sua scomparsa abbiamo deciso di ricordarlo in questo piccolo monumento.